Gatto consolatore di persone colpite da lutto si ammala, gara di solidarietà tra la gente per salvarlo. La storia di Giuliano arriva da Castiglion Fiorentino ed ha commosso un po' tutti. Giuliano è un gatto di circa sette anni arrivato tre anni fa presso la sede della Misericordia. Si era nascosto in un intercapedine in stato molto sofferente con un miagolio molto debole. Una volta curato dal veterinario Giuliano è stato adottato da Gabriele, volontario della Misericordia e da altri colleghi e da quel giorno ad ogni veglia funebre non ha mai mancato di sollevare l'animo e asciugare le lacrime delle persone che vedendolo e accarezzandolo riuscivano a trovare un minimo di conforto. Qualche settimana fa Gabriele che ha dovuto sospendere il volontariato per motivi di lavoro passando a trovare Giuliano si è reso conto che perdeva sangue nelle urine. A quel punto si è immediatamente attivato contattando Vanessa, giovane titolare di un negozio ed esperta di salvataggi di animali selvatici che con il compagno Marco ha preso il gatto in negozio e lo ha fatto visitare. Da lì è saltato fuori che Giuliano era affetto da tre calcoli di oltre un centimetro o si operava o poteva morire. A quel punto Gabriele ha lanciato un appello su 6 di Castiglioni Se, pagina Facebook molto seguita per raccogliere i quasi 400 euro necessari per il delicato intervento. Le persone si sono subito attivate per il gattino consolatore e la risposta non è tardata ad arrivare. In poco tempo la cifra è stata accentrata. Giovedì Giuliano è stato operato, sta bene ed è tornato al negozio di Vanessa e Marco che lo hanno adottato con la promessa di tornare ogni tanto a svolgere il suo ruolo alla misericordia.